Giorno? Iniziamo bene. Giorno 1. Giorno 1. Quelli lì sono i pompieri. Proprio scopriteli. Buon appetito! Questa è Istanbul Fog. Siamo a Istanbul Fog. Fog. Ma non funziona. E' un tool, è una roba per riuscire ad avere internet gratis da questo macchino. Ma da solo non so se sarei partito. Questa è la colazione dei campioni. Grazie a tutti.